Dal 7 al 12 agosto torna per il secondo anno consecutivo il Festival della Collaborazione. Enrico Melozzi, spieghiamo un po' il programma e le iniziative per quest'anno. Il Festival della Collaborazione è proprio perché associazioni culturali si uniscono per fronteggiare la crisi economica e quindi la crisi dei finanziamenti per la cultura, si uniscono e creano una collaborazione. Questa collaborazione fa sì che si riesca con pochi soldi a fare invece un cartellone importante e ricco che dura 6 giorni con 24 eventi e quindi 24 eventi sembra una cosa insomma grossa. Saremo qui alla Villa Comunale di Teramo con tre palchi e su ogni palco si esibirà un artista diverso, ogni sera 4-5 concerti. Cosa succede? Che l'evento di chiusura è la grandissima Sara Jane Morris che viene dall'Inghilterra per fare questo concerto di chiusura, l'evento di apertura invece è lo spettacolo di Walter Nanni smetto quando voglio, certo non smetterà la sua carriera qui ma anzi la lancerà ancora di più. Poi c'è Sandro Joyeux che viene dalla Francia, abbiamo i Lordo Valtamont che vengono da Los Angeles, Livio Gianola che ci farà sentire il miglior flamenco spagnolo. Quindi è un festival anche internazionale che siamo riusciti a creare anche con pochi soldi grazie al contributo del Comune e della Fondazione Tercas e quindi rientra all'interno del cartellone unico e possiamo benissimo dire che forse questo è il vero evento estivo della Teramo desolata d'estate dove però essendoci una grande crisi quindi la gente sempre meno va fuori, va al mare e così abbiamo pensato alle persone che erano diciamo costrette a rimanere in città e soprattutto abbiamo pensato a far arrivare un po' di gente da fuori dalla costa e portarla a Teramo perché noi facciamo questa cosa proprio per l'amore che abbiamo per la nostra città. Sindaco Maurizio Brucchi, un'iniziativa all'interno del cartellone degli eventi del Comune di Teramo quest'anno per il secondo anno torna il Festival delle Collaborazioni, come vede questa iniziativa? Insomma io l'iniziativa da un punto di vista culturale è un'iniziativa positiva anche di livello perché i personaggi che verranno a Teramo sono di un certo spessore la cosa che vorrei sottolineare è anche il fatto che queste associazioni hanno capito anche il momento difficile di fatto che si sta attraversando e dietro hanno seguito anche un po' il mio consiglio un consiglio che avevo dato un po' a tutti, quello dove, che nelle situazioni dove in qualche modo non si riesce a raggiungere l'obiettivo facendo sinergia l'obiettivo si raggiunge e devo dire che queste associazioni lo hanno capito, si sono unite, abbiamo unito Villa Suite alle altre due iniziative e quindi si sarà questo evento alla Villa, anche la scelta della Villa è ancora un cantiere oggettivamente, però comunque tutto sommato può essere come dire la ripresa di un'attività perché sulla Villa dovremo lavorare, dovremo lavorare molto subito dopo l'estate perché il cantiere dovrebbe essere restituito diciamo settembre per star tranquilli ma subito dopo dovremo ricominciare un attimino a risistemare la Villa anche da un punto di vista proprio naturalistico ambientale per quelli che sono anche diciamo tutto il patrimonio che c'è all'interno della nostra Villa Comunale, quindi il fatto che si faccia qui è una cosa positiva io sono stato d'accordo e credo che saranno cinque giorni interessanti da tutti i punti di vista Tra le associazioni facenti parte di questo evento che quindi per quest'anno torna con il secondo anno Mauro Baiocco, come presentare Teramo Ignorata? Teramo Ignorata, quest'anno abbiamo preso come location la Villa Comunale di Teramo che tutti i terramani possono venire a vedere grazie a causa dei lavori dell'ipogeo non è al massimo del suo stato di forma, quindi abbiamo colto l'occasione per poter fare anche quest'anno per poter lanciare in maniera provocatoria, in maniera costruttiva e far vedere quante potenzialità ci sono a Teramo per poter creare dei posti, dei luoghi che possano ospitare eventi culturali fuori dai luoghi canonici, fuori dai teatri ricordiamo negli anni passati abbiamo portato Giovanni Alleveo e i giardiniti di Collaterrato Basso quindi in posti impensabili grazie a tutti grazie a tutti